nuovi chitarristi, quei musicisti che solitamente non vediamo nel web, ma che ogni giorno imbracciano lo strumento e passano ore ad esercitarsi e a capire, a trovare la propria voce. Sarà sicuramente un viaggio particolare, interessante ed entusiasmante. Perciò ragazzi ci vediamo su Music of Young. Let's rock! Ciao, sono Phil e sono qui per dichiarare pubblicamente il mio supporto a Music of Young, un'iniziativa che trovo straordinaria per dare voce ai giovani musicisti di talento, Anch'io sono stato giovane, a dire la verità, neanche troppo tempo fa e so quanto sia difficile quando sei giovane trovare qualcuno che crede in te, che investe su di te e soprattutto creda al fatto che tu riesca e possa diventare un musicista affermato domani, cosa che sembra ancora più una follia in questi tempi. Io non credo sia una follia e sono qui anche per supportare e motivare a tutti quelli che con molto sacrificio stanno cercando di farcela e di diventare i musicisti di domani. Quindi sono con voi nelle modalità che scopriremo anche piano piano. A presto! Ciao a tutti, sono Marco Sfogli e oggi vi voglio parlare di questa nuova interessantissima iniziativa di Music of, chiamata Music of Young. Abbiamo tantissimi talenti in Italia e l'idea di Music of è stata proprio quella di riunirli e di organizzare delle dirette streaming all'interno delle quali ovviamente saranno presenti anche dei chitarristi diciamo così con un po' più di esperienza. Quindi sarò presente anche io insieme a altri miei colleghi e potremmo dare il nostro piccolo contributo ovviamente in termini di esperienza soprattutto. E inoltre metterò a disposizione i miei canali streaming per questa diretta cercando di far arrivare a quanta più gente possibile questa iniziativa. Per cui ci vediamo su Music of Young. Ciao! Ciao, sono Alberto Lombardi e voglio parlarti di un progetto bellissimo dei miei amici di Music of. Music of Young che darà la possibilità a dei ragazzi molto giovani ed estremamente talentuosi di esibirsi sul portale di Music of che è uno dei più grandi e curati portali di musica che abbiamo in Italia e non solo in Italia. Sarà molto bello perché questi ragazzi sono davvero talentuosi e davvero appassionati e avranno oltre la possibilità di suonare ed esprimersi anche di confrontarsi con artisti più grandi della mia generazione. Io la supporterò in tutte le maniere che posso e sono sicuro che sarà una cosa molto bella che ci darà anche tanta speranza per il futuro della musica. Music of Young. Ciao! Ciao a tutti, rieccoci su Music of, per nessun progetto che mi riguarda in particolare, ma che riguarda dei giovani talenti veramente eccezionali, italiani chiaramente, che porteranno sicuramente molto in alto il nome della chitarra in Italia e della musica in generale. Music of Young è un progetto che appunto vede coinvolti anche dei professionisti affermati del panorama chitarristico italiano. Perché? Dal mio punto di vista, per quanto mi riguarda, mi piacerebbe dare dei consigli utili a questi ragazzi che non saranno quasi certamente consigli musicali, ma consigli su come affrontare il mestiere e la vita del musicista. Ho visto tanti talenti io in passato che, per errori tra virgolette banali, sicuramente non legati all'aspetto strettamente musicale, non sono venuti fuori come avrebbero meritato dal punto di vista musicale del talento. Quindi sono qui per promuovere questa iniziativa fantastica di questa banda di pazzi che si è racciusa tutta sotto il nome di Music of. Una banda però che ha delle idee magari un po' pazze, ma sicuramente di grande valore. Diamo a questi ragazzi la possibilità di farsi sentire, ma anche di incoraggiare i coetanei che magari non hanno la loro stessa forza, il loro stesso talento, ma che hanno lo stesso amore e passione per la musica. Penso che il compito di chi è già fatto un po' di strada sia accompagnare chi la inizia in questo momento nel modo migliore. Poi chissà, magari un giorno saremo anche ricordati da questi ragazzi come importanti figure nella loro vita professionale. Ciao sono Cesare Chiodo e sono qui per fare una dichiarazione, una dichiarazione di supporto al progetto Music of Young. È un progetto che vuole tenere d'occhio i giovani talenti, vuole dare soprattutto loro un supporto, ma anche visibilità attraverso le competenze. Eccoci, buonasera puntualissimi alle 9 operativi con questo nuovo progetto di Music of. Intanto buonasera a tutti, siete veramente tantissimi stasera e cerco di salutarvi al volo, i primi che riesco a beccare al volo. Ciao Flavia, ciao Vincenzo Bonetto, buonasera Marco Molinaro, buonasera. Ciao Grazie Abbandoni, Ioris Merighi o Loris forse. Ciao Thomas, posso dirmi quali sono i brani di apertura per il comienzo del collegamento? Questo qui è un brano di Giacomo Pasquali, che ormai usiamo come sigla da quando abbiamo iniziato. Ciao Giusmar, benvenuti. Intanto io vi invito, se siete in particolare su Facebook, a migrare su Twitch, perché stasera ragazzi si sentirà benissimo, si sentirà di tutto. Quindi vi invito sul nostro canale Twitch, lo trovate nella descrizione sopra, in alto, su Facebook. Comunque è twitch.tv slash music of community. Ciao Stefano Proietti, Enrico Santa Catterina, bene, benissimo, buonasera. Ciao Maria Chiara Molinari, ciao Spirito 17, buonasera. Nicola Gabbas, Luca Maldarelli, buonasera. Ciao Lorenzo Ferrara, ciao Andrea Scarpelli. Bello vedervi ragazzi, stasera sarà una serata pazzesca, è stata tanta preparazione, non soltanto da parte dello staff di Music Off, ma veramente tantissima preparazione anche da parte di questi ragazzi, si sono prodigati, hanno organizzato, hanno sistemato audio, video, luce, è stata una sfida veramente pazzesca. Ciao Emiliano Tessitore, ragazzi stasera proprio tanti tanti tantissimi musicisti. Ciao Massimo Varini, in diretta pure tu su Twitch. Ciao Giacomo Pasquali, ciao Nicola Schinto, Francesco Savarese, grande bro, buonasera. Ciao Frango Picro, ciao Ivan Volpi in testa. Bene, intanto, diciamo, mentre facciamo questi salutini, io vi faccio partire il nostro solito countdown, così ci abbiamo un po' di tempo. Eccolo grande Andrea Martongelli, collegato anche lui. Ciao Gianni Palu, Paluello. Dicevo poco fa, accompagnatevi serenamente su Twitch, che la qualità è molto più alta e soprattutto da lì posso prendere più facilmente i vostri commenti, i vostri messaggi, le vostre domande pure che arriveranno. E adesso poi, tra un minutino, vi spiego il format. Aspettate soltanto un attimo, perché noi abbiamo gli ospiti segreti qua, gli domando un messaggio. Eccoci qua, scusate che era importante, perché i ragazzi non lo sanno chi sono i special guest di stasera. Ciao Federico Roncoletta, ciao Augusto Ragonese, buonasera Nicolò dell'Aventura. Grande Ciro Manna, alla grande forza ragazzi, grazie di essere qui a vedere la diretta. Ciao Luca Perrone, vediamo un po', Andrea di CN, ciao sarà la prima di una lunga serie? Assolutamente sì, diciamo tre puntate sono già praticamente assettate, però in realtà la vogliamo portare avanti a lungo, anche invitare altri musicisti che non siano solo chitarristi, perché l'idea è proprio di... adesso ve lo spiego tra 30 secondi. Ciao Silvia, ciao Alessandro Castelli, Max Mungari, ciao buonasera, Rocket Roger, grandissime, Riccardo Paoli, buonasera, Gianluca Russo. Ragazzi stasera c'è un oceano di gente, veramente sono felicissimo, rinvito anche quelli che sono arrivati adesso, che ci stanno vedendo su Facebook, di venire a vedere la diretta su Twitch, perché si sente molto 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 meglio. Sì sì, non ti preoccupo, ho visto. Ciao Tony De Gruttolo, buonasera. Bene, direi che possiamo partire. Bene, allora questo progetto veramente è stato un grande sogno, anche soltanto immaginarlo, e adesso ne parleremo tanto durante questa diretta, perché io ho questa impressione che ho condiviso con i tantissimi professionisti che poi hanno dato questo supporto, scusate che mi prendo una lista perché io vi voglio leggere tutta la gente che ha dato supporto a questo progetto dei professionisti italiani e non solo. Ho mandato un messaggio, come è iniziato, ho mandato questo messaggio a Samuele Verduca che stasera è ospite qui e gli ho detto senti Samuele, io ho quest'idea. Secondo me possiamo fare qualcosa di bello con tanti giovani musicisti italiani e portarli in un unico contenitore insieme, farli suonare, intervistarli con la stessa dignità, con lo stesso interesse con cui portiamo qui Big ormai da tanti mesi, per conoscervi meglio, per sapere quali sono le cose che vi animano, quali sono le leve che vi smuovono, anche per essere, non soltanto per far vedere il percorso straordinario che avete fatto, ma anche per essere una testimonianza per tanti tanti altri giovani e non solo, di quanto è straordinario un percorso con la musica, di farlo seriamente, che non vuol dire necessariamente farlo per professione, ma farlo seriamente si può fare anche a livello amatoriale, cioè prendere la musica come una parte importante della tua vita, qualcosa che ti fa e ti dà una vita di una qualità migliore. Per me, per la mia vita, è stato così. La musica mi ha dato veramente tanto, mi ha dato amici, la professione che faccio con Music Off, mia moglie, ci siamo conosciuti tutti tramite questo percorso qui. Ecco, io penso che la musica possa seminare, possa portare frutto nella vita di tante persone in maniera straordinaria, eccezionale, come nessun'altra cosa. E quindi ho detto, senti, facciamo una cosa, cerchiamo di fare come diceva Nalen, prendiamo il best of both worlds, prendiamo l'entusiasmo e il motore proprio dei ragazzi come te, intorno ai vent'anni. L'idea di Music Off Young è una sfera di persone intorno ai vent'anni, quindi potrebbero essere 17, 18, 19, 21, 22, 23, cioè in questa sfera qui. E mettiamoli, diamogli un posto dove farli vedere e conoscere da tante tante persone che ormai sono anche used, abituati a vedere professionisti e artisti di grande livello, perché secondo me dentro di voi c'è una testimonianza straordinaria che possiamo passare a tanta gente. Poi nello stesso tempo portiamo due big, ogni volta due big intendo due professionisti, gente che fa questo mestiere da tanti anni, anche da meno anni però che hanno delle qualità assolutamente di alto livello, che possano ascoltarvi, chiacchierare con voi, darvi magari qualche suggerimento e ai quali voi possiate fare anche delle domande che siano magari la domanda della vita, perché tante volte un incontro cambia tutto nella vita di una persona, lo sapete meglio di me. Intanto grande, ciao Vince Carpentieri, buonasera. Bene, bene ragazzi, stasera ci divertiamo un bel po'. E quindi niente, è nata questa cosa qui, e da una parte quindi c'erano i ragazzi, e ho chiesto a Samuele di farsi un'idea di una prima decina, e lui la sera stessa mi ha mandato questi altri nove nomi dopo di lui, che i primi quattro li vedete stasera, gli altri li vedrete nelle prossime puntate, e con loro è partito subito un entusiasmo pazzesco ragazzi, veramente incredibile, con una voglia anche di condividere, di fare community, il fatto di fare il tifo per un collega, essere contenti per i successi di un collega. Quindi è stata un'esperienza, anche se solo all'inizio, che secondo me può essere una piccola grande rivoluzione, un nuovo piccolo umanesimo musicale, come l'ho chiamato. Io sono sempre convinto che le grandi rivoluzioni partono dal basso. Ecco, dal basso lo facciamo partire oggi. Poi vediamo quello che succede. Come i matti, ho mandato un video di sette minuti, quindi non una cosa da 15 secondi, sì, le storie di Instagram, a tanti professionisti italiani, con cui c'è un'amicizia, c'è una stima reciproca da tanti anni, e gli ho detto, ragazzi, io c'ho un sogno, e gli ho raccontato questa idea qui. E tutti hanno risposto con un entusiasmo pazzesco. Vi leggo soltanto i nomi, perché ci tengo a dirvela questa cosa, perché ognuno di loro si è prodigato, hanno fatto video, hanno fatto post, hanno ascoltato i ragazzi, hanno condiviso storie, hanno messo a disposizione i loro canali social. Adesso anche questa cosa la vediamo da vicino. E io ho mandato questo messaggio a Andy Martongelli, Carlo Fimiani, Cesare Chiodo, Chico Gussoni, Ciro Manna, Claudio Pietronic, Diego Budicin, Donald Renda, Donato Begotti, Enrico Santacatterina, Federico Malaman, Giacomo Pasquali, Gianluca Ferro, Giuseppe Scarpato, Ivan Icardi, Luca Mantovanelli, Manuele Montesanti, Marco Sfogli, Massimo Varini, Matteo Mancuso, Phil Mer, Riccardo Corso, Walter Sagripanti, Vanni Tonon, Vince Carpentieri, Davide Aru, Luca Colombo, Diego Arrigoni, Simone Giallorenzi, eccetera, eccetera. E la maggior parte di loro, qualcuno ovviamente era un po' impegnato evidentemente con la sua vita normale, hanno risposto con un entusiasmo pazzesco. E hanno mandato 15 di loro, hanno già mandato questo primo, in realtà hanno mandato di più, ma oggi ne abbiamo pubblicati questi primi 15, se no il video veniva troppo lungo, di questi video che sono usciti oggi su Instagram e che stavate vedendo nell'intro. In più, qualcuno di loro, che mi permetto di fare una menzione speciale, ha messo a disposizione i propri canali social, perché stiamo streammando questa diretta non solo sui canali di Music Goff, ma sui canali di questi altri amici, Massimo Varini sul suo canale YouTube, Ciro Manna sul suo canale YouTube Facebook, Andy Martongelli, Gianluca Ferro, Giuseppe Scarpato, Giacomeo Pasquali e Vince Carpentieri sulle loro pagine Facebook e vince anche sul suo profilo Twitch. Quindi, secondo me è una cosa stupenda. Io sono felicissimo per me, già questo è stato un successo incredibile per la coesione che ha creato. Scusate, ho visto adesso una domanda e lo stavo per dire. Tantissimi ragazzi giovani in queste settimane ci hanno scritto chiedendo ma come si può partecipare a questa cosa? State sereni perché l'idea è ovviamente allargarla a tutti, non è una cerchia ristretta. Ho in mente proprio nelle prossime settimane di fare una zoomatina con i primi 10 con cui abbiamo fatto questo primo gruppo, intanto sentire i loro feedback dopo questa diretta e poi con loro mettere giù un'idea per il futuro. Intanto segnalare altri musicisti, però su musicoff.com, sul sito proprio, arriverà un momento in cui uscirà un articolo che dice sei un artista, sei un giovane e ti piacerebbe partecipare a questo progetto musicoff young? Scrivici qua, facci vedere chi sei, raccontaci la tua storia e lì vediamo di organizzarci. Ovviamente quattro persone alla volta, però ce la faremo piano piano a fare tutto. Scusate questa lunga introduzione ma ci tenevo molto a raccontarvi questo progetto. Ciao Gianluca, Ferro, grandissimo, collegato anche tu. Scusate se non vi ho risposto, ho visto tutti i commenti, ci stanno più di 600 persone collegate, quindi io veramente sono ammirato dell'entusiasmo di questa sera. Vi ringrazio tantissimo anche i tanti professionisti che sono adesso online a vedere la diretta e i due che sono già nella waiting room di questa diretta. Però visto che mi sono preso più dei miei soliti 7-8 minuti, direi che è arrivato il momento di far smutare i microfoni ai nostri ragazzi, così adesso li lanciamo nella diretta e vediamo che succede. Ladies and gentlemen, Samuele Perduca, Andrea Albini, Alberto Barsi e Alessandro Lunedì. Eccoli! Ciao Thomas, buonasera, belli come il sole. Scusate sono stato un po' lungo eh, però. Ci andava, giusto? Ci stava. No, no. No, ci tenevo molto a raccontarlo perché secondo me è venuto fuori proprio un bello spirito anche tra di noi in queste settimane, anche con gli altri colleghi, quindi penso sia la parte un po' più cicciotta. Sì, assolutamente. Senti Samuele, io comincerei un attimo da te al volo e poi farei un breve commento pure a loro su questo pre-diretta. Com'è stato in queste settimane questa esperienza per te? Ma allora, partiamo proprio dalla pre-pre-diretta, cioè quando io ho visto sul telefono Thomas Colasanti, stavo andando a fare la spesa, apro la telefonata, ciao Samuele, vorrei organizzare con te una cosa dedicata ai giovani, mi sono dovuto fermare perché non volevo finire fuori strada. Allora partiamo proprio dalla pre-pre-diretta e poi ci siamo attivati, sono state veramente delle settimane intense, per me è stata un'emozione grandissima. Innanzitutto poter collaborare con Music Off, che per me è un punto di ferimento da quando ho a che fare con la musica che giro sul web e poi poter condividere un'esperienza del genere con degli amici che adesso l'hai detto tu all'inizio sono nove, ma in realtà è l'inizio di speriamo 90, 900 e così via con tanti zeri. È stato un percorso interessante perché adesso ci vedete tutti qua audio e video settati, ma ci siamo dovuti appunto sbattere. Il grazie va subito a te, a tutto Music Off, è il primo, ne arriveranno tanti durante la serata perché ci hai dato veramente una mano, ci hai spronato però sempre in maniera positiva a creare un gruppo che è stato creato veramente molto bene. Io sono molto orgoglioso di farne parte, sono emozionato a star qua, seduto qua dove due volte a settimana ci stanno i miei idoli chitarristi che con cui sono cresciuto, quindi grazie. Bene, grazie mille Samu. Vai Ale, fai un giretto pure tu, va, dicci qualcosa, come è stato questo prequel? Ragazzi, non so che dire. Allora, in realtà, se proprio vogliamo partire dal principio, allora tutto è partito dal contest di Ciro, perché poi è così che io e Samuele ci siamo conosciuti, lui mi ha contattato, ha fatto, oh sei un drago, un drago che... E abbiamo fatto un po' di cosette insieme, molto simpatiche tra l'altro. Il fatto sta che un paio di settimane fa mi contatta e dice, ti aggiungo a questo gruppo segreto che non ti posso dire che cos'è. La massoneria. Sì, perché non avevamo detto niente, lo sapeva solo Samuele fino a quel momento. Esatto, invece con le ragazze non aveva niente a che fare, invece era roba di Music Off. Quindi ovviamente ci sono un attimo rimasto, perché poi la mia autostima spesa, come dire, in questo periodo tra l'altro non è granché, per cui, in questo periodo Covid e tutto il resto, per cui ci sono davvero rimasto, perché ho detto, cavolo, forse allora qualcosina di carino sta succedendo. E niente, abbiamo fatto un po' di prove tra le varie peripezie, come dire, è uscita una cosa davvero carina. Cioè, almeno l'inizio direi che è stata alla grande. Poi sono un sacco contento, ovviamente sono anche molto, come dire, emozionato. Però sono davvero contento di questo gruppo che si è formato. Vabbè, magari gli altri non lo sanno, quelli che ci guardano, insomma, ma noi ci sentiamo anche su Whatsapp un sacco a ridere, a scherzare, a mandarsi gif, a ridire. E quella è la parte più bella, tra l'altro. Ragazzi, stasera non so come devo tirare i bending, queste cose qua. Io amo Andrea Albini, queste cose, insomma. Grazie. Per cui, si sa che gli amori nascono anche in diretta, no? E si dice così. Per cui, che dire, ragazzi, davvero, poi sono emozionato. Non so che altro dire. Insomma, un grazie veramente speciale a Music Off e a tutto lo staff. Io, non lo so, ringrazierei anche tutti, Samuele e tutti gli altri che, come dire, hanno davvero, secondo me, l'attitudine giusta, no? Per fare queste cose nel modo corretto, cioè con umiltà, con spirito di iniziativa, che mi rendo conto che è una cosa molto difficile da trovare, come dire, in questo, in questa, probabilmente, questa era sociale, cibernetica, no? Tutto un po' così strano. No, ma poi adesso che siamo più feriti, anche da questo tempo, secondo me è una buona occasione per poter riseminare un altro modo, no? Stupirci. Sì, 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 a voglia, a voglia. Tantissima, è anche un bello stimolo per me in particolare, cioè nel senso penso per tutti, però sicuramente anche per me, per mettermi sotto a studiare ancora di più, insomma, perché alla fine sono tutti delle bestie qua, come dire. E questo è quanto, ragazzi? Bene. Alberto, sei pronto? Sei pronto? C'hai la scheda paddata? Sì, sì. Ok, vai, raccontaci tu qualcosa di questo prequel. Io mi ero segnato il pad, così scritto proprio con il mio sangue, perché tanto me lo dimenticherò comunque, però comunque. No, vabbè, l'esperienza, allora, intanto mi ricordo, mi arrivò la notifica e già un po', diciamo, cioè il Music Off è stato un riferimento per me nel mio periodo di formazione, ma anche adesso, che in realtà non è ancora finito. Insomma, essere qui dove, come ha detto già Samuele, due volte a settimana ci sono, stanno i big che sono molti di loro, anche i miei idoli, è una cosa parecchio ganza. Tra l'altro io devo ringraziare proprio Samuele, perché io non lo sapevo che fosse stato lui a consigliare me e tutti gli altri. Pensavo, pensavo Thomas in realtà, perché tra l'altro io e Thomas ci conosceramo più o meno già. No, lui ha fatto il tuo nome, io gli ho detto, cavolo, Alberto lo conosco, abbiamo fatto pure un articolo su Music Off, quando uscì il tuo brano, e quindi gli ho detto, vai, confermato. Grande. Sì, mega onore. Sono contento tra l'altro del fatto che sia questa una sorta d'inizio di una comunità di chitarristi, che tra l'altro io avevo già visto formarsi già dall'inizio della quarantena, devo dire la verità. Mi ricordo quando si era bloccati a casa per la prima volta, mi ricordo ovviamente questa sensazione di vedere, magari quando mettevo video sui social media, un sacco di gente che, giovani italiani che interagivano, mi chiedevano cose viceversa. E' una cosa veramente bella secondo me, che spero che questo sia ufficialmente l'inizio di questa cosa qua. Bene, lo è assolutamente. Intanto tra i milioni di commenti che stanno arrivando, ci stanno arrivato Marco Sfogli che sta vedendo la diretta, ed è arrivato Ivano Icardi che sta vedendo la diretta per la vostra gioia, grazie mille. Wow. Andrea, sei pronto? Yes! Vai, raccontaci un po' questo prequel per te. Ma intanto io devo fare i ringraziamenti a te, Thomas e a tutto lo staff di Music Off, perché penso che questa sia un'occasione veramente unica e bellissima. Quindi che dire, un giorno ho ricevuto anch'io un messaggio da parte di Samuele, che non smetterò mai di ringraziare, dove appunto, insomma, ho capito che avrebbe voluto dirmi di che cosa si trattava, però ha cercato di essere il più velato possibile, dicendomi no, guarda, sì però, non posso, sì però, e io intanto insistevo, perché più andava avanti a dire di no, io più dicevo dai, però su, almeno un indizio, no? E insomma, quando poi mi sono trovato in questo gruppo e c'eri tu, Thomas, e c'erano questi altri nove chitarristi pazzeschi, perché io mi sento, lo dico a tutti, da quando sono venuto a conoscenza di questo gruppo, mi sento una formica in mezzo al loro e quando li ho ascoltati sono veramente rimasto ad occhi aperti e quindi sono felicissimo di essere qua e vi ringrazio veramente tutti. Bene, dai, bene, quindi così. Bene, sono contento, intanto vi giro un altro, via via cerco di beccarli, mi sono venuti anche Roberto Fazzari e Chico Cussoni che stanno vedendo la diretta, stasera veramente ragazzi, è una cosa stupenda, perché ci sta tutto quello che si può avere, giovani bravissimi, super big che stanno seduti comodi a godersi stasera, quindi veramente io vi ringrazio perché già questo mi mi dà un entusiasmo ancora superiore a quello che normalmente so. Va bene, io direi che abbiamo parato 22 minuti, di cui 10 minuti, 12 minuti su preschio, solo per chiederisti questa sera, però l'idea del progetto è di farlo, scusa che intanto riguardo le domande, sarà anche per altri musicisti. Io direi facciamo così, io farei suonare subito un brano perché oltretutto i due big stanno tutti là dietro, tutti e due, e possono cominciare a vedervi e poi alle 10 se facciamo in tempo, forse tardiamo 5 minuti, li facciamo entrare. Io direi il primo che vuosonà, direi che visto che è stata un po' tutta colpa anche tua, io lancerei prima Samuele, che ne dite? Mandatelo, mandatelo. Che ci suoni, man? Allora, vi suona una versione di un brano parecchio famoso dei Breaker Brother che si intitola Sam Skunk Funk e vi suona una versione preso da un album del 2017 che è Chapter One dell'Elba Triangle, tra l'altro se c'è Marco in diretta, lui ha preso parte, Marco Sfogli, ha preso parte alla produzione di questo album e niente, che a me fa impazzire, c'è poco da dire. Già prevedo il botti a colori. Speriamo, proviamo. Ok, voi siete mutati, perfetto, vai col botto, vai con la base, facci neri. Grazie a tutti. 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 Alcuni su YouTube, altri su Facebook e YouTube, altri su Twitch, eccetera. Abbiamo appena superato il record di utenti simultanei che aveva fatto Andy Timmons. Siamo sopra 900 persone collegate simultaneamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove la musica. E' stato circondato da musica, è stato circondato da musica, ma non mi è mai stato imposto, ecco allora tu devi continuare la stirpe, devi suonare anche tu. Io vedevo intorno a tutti. Sono perché, sentivi suoni, sentivi suoni, le corde, andami ist è partito proprio come un gioco cercando di imitare e devo dire che ciò che fin da subito mi ha tenuto acceso la fiamma come spesso capita è proprio suonare sui dischi e questa è una cosa a cui sono stato avviato appunto fin da piccolo che è quello di prendere i dischi e cercare di tirarsi giù, provare a suonare e proprio la prima chiave di volta per me, e questo lo dico, è stato Slash quando io ho visto Slash penso che lì ho detto boh basta, io devo diventare così penso che ci sia stato un periodo intorno ai 12 anni, che adesso non lo dico però ascoltavo talmente tanto di quella musica, quando è uscito nel 2010 l'album di Slash, io penso che due settimane dopo l'uscita sapessi a memoria tutto l'album anche la parte di batteria può essere no, perché non sono capace tecnicamente ma a livello di orecchio e poi da lì si sono aperte un sacco di altre porte non ho, in realtà, fino intorno ai 13 anni sono stato ancora lì in dubbio io non ho detto subito basta, io voglio fare il chitarrista ci sono stati momenti di alti e bassi in seconda media ho avuto tre mesi fissi in cui avevo preso informazioni per iscrivervi all'accademia militare, io volevo fare il pilota ci ho avuto sei mesi perché io voglio andare a guidare gli aeroplani vabbè, poi invece c'è l'altra chiave di volte importante a 14 anni papà mi ha avviato verso la Rock Guitar Academy di Milano io sentivo che c'era in diretta anche Roby, Roberto Fazzari allora, alla Rock Guitar Academy di Milano io sono andato, ho fatto l'audizione, sono stato preso e qua è partito proprio il percorso che mi ha gli anni di sangue eh sì, svoltato definitivamente proprio come mentalità lì ho detto, ho iniziato, ho detto boh, io voglio provare a fare questo e ci sto provando è una roba di pochi anni fa e all'RGA peraltro spesso mi viene chiesto mi scrivono ragazzi che mi chiedono se guardate, appena scritto Roberto grande Roby mi chiedono se come mi sono trovato all'RGA io all'RGA mi sono trovato davvero bene perché oltre alla parte strumentale proprio magari strettamente tecnica dello strumento ho imparato un sacco di altre cose proprio dal punto di vista umano di ciò che deve essere ed è meglio che sia un musicista ho incontrato un sacco di belle persone appunto prima di tutti Roby che saluto gli mando un abbraccio gli voglio bene lo stimo un sacco lui lo sa è Donato soprattutto Donato Begotti il boss dei boss ma tutti Cristina dovrei non sto qua a elencarli tutti se no poi o mi dimentico qualcuno o mi dimentico qualcuno ho due opzioni sono stati tre anni sono stati tre anni veramente intensi perché comunque poi io frequentavo il liceo io ho iniziato a frequentare la Rock Guitar Academy a inizio dal mio secondo anno di scuola superiore e l'altra cosa che sembra banale ma mi ha aiutato proprio anche magari a svegliarmi dal punto di vista della vita che io mi sono trovato a 14 anni adesso c'è gente che lo fa ben prima della mia età quindi non è nulla dispiaciale però mi sono trovato a dover prendere una volta a settimana il treno uscito da scuola mangiavo in dieci minuti un quarto d'ora e poi volavo in stazione a prendere il treno e stavo tutto il pomeriggio via Milano quindi dover abituarsi a studiare in treno per non andare poi a pigliare i tre e quattro al liceo anche quella cosa lì devo dire che secondo me mi ha aiutato a maturare non poco e poi dover cercare di tenere tutto sotto controllo cioè la chitarra la scuola certe volte ci sono riuscito certe volte ho fallito miseramente però più o meno siamo riusciti a tenere un livello discreto e ho passato tre anni ho fatto delle esperienze bellissime mi hanno portato suonato al teatro della luna in apertura un concerto bellissimo dedicato a Jimi Hendrix di capitanato da Andrea Cervetto che magari non so se è collegato saluto anche lui mitico Andrea e ho suonato al FIM alla Fiera Internazionale della Musica rappresentando l'RGA con gli altri studenti che anche qua adesso non li nomino tutti però li saluto loro lo sanno e poi nel 2019 è finito il percorso dell'RGA mi sono diplomato al CCR ed è stato anche persino e da lì sono uscito l'anno scorso ho fatto la la maturità e adesso mi sono iscritto al conservatorio sempre Giuseppe Verdi di Milano esatto e in questi anni contemporaneamente un'altra fortuna che ho avuto secondo me è stata quella di essere avviato anche all'esperienza del live della musica live che è un'altra cosa molto che mi ha aiutato a crescere e che è diversa da questa cosa qua io stasera mi sento un pesciolino fuor d'acqua tra virgolette perché è tutta un'altra roba essere su un palcone anche con davanti magari mille mille e cinquecento persone ma con la band con i tuoi compagni che tiri tutto il carro dove devo andare invece così iphone basi però è stata le telecamere già spaventano poi farle in diretta è veramente una bella esperienza è stata una cosa diversa e anche negli anni sono riuscito ad approcciarmi delle esperienze di musica dal vivo veramente interessanti e sicuramente mi viene ho piacere di nominare una nuova collaborazione che è nata recentemente che è quella con le custodie cautelari di Ettore Di Liberto che saluto e abbraccio anche lui e che mi ha portato a suonare ho suonato sui palchi insieme a Giuseppe a scarpato Luca Colombo alla notte delle chitarre ho passato delle giornate che ero lì che ogni tanto sei sveglio sei sveglio guarda scusa che senza fare sviolinate ma Roberto mi ha appena scritto dicendo lo diciamo che hai preso 10 lode al CCR all'esame finale e niente appunto adesso siamo qua è un momento è un momento difficile ma come ha detto anche Alessandro prima sicuramente queste esperienze ti aiutano a restare lì con la testa a dire che bisogna tenere duro stringere i denti passare anche questa cosa qua bisogna continuare a pedalare ai 200 all'ora bene questo è un bel inizio intanto guarda c'è un altro salutino di una vostra collega che è Federica Golisano che anche lei la vedrete in una prossima diretta di Music of Young intanto grazie Samu poi vedrai che ci faremo un sacco di domande perché adesso ci facciamo sentire un altro pezzo dai vediamo uno che si lancia senza che vi scelgo io dai vediamo quanti secondi passano un due vai Andrea hai detto per me a posto benissimo bene allora facciamo così come sempre prima suoni e poi parli sei pronto? certo mutatevi intanto voi ragazzi così lasciamo spazio pure Andrea che ci suoni Andrea? allora il primo brano che vi suono è Spark and Eco tratto dall'omonimo album di Mark Lettieri benissimo scusa dico solo questa cosa perché secondo me avete dei suoni bellissimi stasera se state su Facebook venite a vedervi la diretta su Twitch twitch.tv slash musicoff community almeno ve la potete sentire e vedere per bene perché la qualità è molto molto più alta così diamo anche omaggio a questi ragazzi e se siete su YouTube e avete il video mettete un like al video ragazzi perché questo è tutto per loro bene adesso lo facciamo soffocare mentre beve Andrea Albini volevo fare solo un ringraziamento prima di partire come no? volevo ringraziare i musicisti che mi hanno realizzato che mi hanno aiutato a realizzare questa base che ascolterete tra poco e sto parlando di Davide Di Giuseppe alla batteria Nicole Brandini al basso Stefano Proietti alle tastiere e Manuel Boschetti alla produzione grazie da paura grande vai grazie 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 grandissimo grandissimo grazie mille mi fate veramente eccitare Alessandro qua devono sapere nel pubblico che io lo dirò tante volte stasera, mi sono innamorato completamente di Andrea sei troppo buono è strano Luca Ferro ha detto superlativo classe massima e Massimo Varini ha scritto bravo anche Andrea e bravi musicisti che hanno suonato la base che hai ringraziato, bravo grazie mille io pesco scusatemi non è per mancanza di rispetto per chi fa i commenti io ho veramente per me significano tanto i messaggi che state lasciando e i ragazzi li vedranno tutti perché ovviamente si rivedranno la diretta, ne so sicuro pesco soltanto quelli che sono stati, diciamo sono quelli che conosco bene di persone, so che sono coinvolti in questo progetto al volo al volo, però valgono tutti quindi scrivete sereni ecco Riccardo Corso che ha scritto fantastico quindi state sereni e mandate i commenti che soprattutto su Twitch li vedo subito bravo Andrea veramente bellissimo pezzo questo qua grazie grazie mille diciamo che poi quando sento dei complimenti da parte di di chitarristi come Massimo Varini per me è veramente una cosa molto tosta perché adesso poi magari ti racconto in breve però lui per me ad esempio è un chitarrista guardaci in camera dai lo so che non ti piacciamo giusto giusto è che mi sento un po' intimorito da Alessandro capito guarda si stava già vettinando i bassi mi sono fatto così bello per te stasera io non vedo questi ragazzi di oggi come sono te ne senti moriscono è così per dire insomma per me lui è stato veramente un punto di riferimento nei miei ascolti e di conseguenza nella mia formazione nel mio modo di suonare faccio una breve presentazione guardaci sempre in camera lo so che ti piacciamo ma guardaci qua raccontaci un po' da dove arrivi e com'è nata questa tua esperienza ok io sono Andrea Albini sono nato a Novara nel 97 nel settembre del 97 e ho cominciato a suonare la chitarra circa all'età di tre anni grazie a mio papà che ho visto per primo e sono rimasto come folgorato insomma e che dire quindi all'età di 4 anni circa mi è stata regalata la mia prima chitarra classica a tre quarti quindi più piccola e ho cominciato a strimpellarci un po' insomma sotto alle canzoni dei Green Day e altri gruppi che ascoltavo che andavano in quel periodo insomma e all'età di 6 anni ho cominciato a prendere lezioni di chitarra classica con cui sto terminando il mio percorso in questi anni dove sto per laurearmi dovrei laurearmi a breve in chitarra classica nel conservatorio qui della mia città e quindi insomma che tu sei di Novara sì esatto non ho specificato si trova a circa 40 minuti da Milano insomma e quindi ottimo riso formaggi salumi e ecco insomma crescendo sono arrivato poi alla scuola media di indirizzo musicale dove anche lì ho continuato a studiare sempre chitarra classica nel mentre circa all'età di 11 anni mi è stata regalata la mia prima Squire Stratocaster quindi la mia prima chitarra adesso senza voler fare troppa pubblicità e quindi ho cominciato a strimpellare un po' e ho cominciato a studiarla un po' più metodicamente poi quando è arrivato il liceo quindi uscito dalle medie musicali sono arrivato quindi al liceo musicale dove ho continuato il mio percorso di studi e soprattutto ho cominciato a suonare in più situazioni di insieme ho avuto la fortuna diciamo di trovare degli insegnanti che mi hanno sempre stimolato moltissimo cosa non usuale purtroppo spesso è importante trovare secondo me una buona figura di riferimento che possa poi portarti avanti e io mi sento di ringraziare insomma le figure che ho trovato nel mio percorso fino ad ora e insomma quindi grazie a loro ho potuto cominciare a frequentare un po' i primi ambienti quindi le prime band e non solo un'altra attività che io amo moltissimo è il suonare in orchestra ho cominciato a suonare in orchestra grazie all'orchestra fiati della mia città proprio nei primi anni di liceo con alcuni amici ed è stata un'esperienza che mi ha formato veramente tantissimo dal punto di vista della conoscenza del mio strumento e delle varie timbriche che può assumere perché poi insomma insieme in base anche ai vari strumenti con cui ti trovi a suonare specialmente in un'orchestra fiati devi essere pronto a cambiare il timbro del tuo strumento per adattarti meglio alla situazione un po' perché io ho sempre sognato da quando sono piccolo io per quanto riguarda poi la musica moderna io mi sono ho iniziato i miei ascolti con i Green Day parallelamente ai dischi di Neck che uscivano in quel periodo e qui ritorna il discorso di Massimo Varini che per me è una guida e non so trovare la parola adatta perché tutti hanno quel chitarrista di riferimento che è stato fondamentale per il proprio modo di suonare e per il proprio modo di vedere lo strumento per me Massimo Varini nella musica moderna è stato questo insieme ad altri chitarristi come Jeff Becker, John Mayer, Eric Clapton e continuando io ho sempre avuto in parallelo a questi ascolti un po' il sogno di suonare a Sanremo nel teatro del festival perché guardavo, accendevo Rai 1 e vedevo Luca Colombo e Chico Gussoni e Giorgio Cocilovo tre professionisti immensi suonare in quella situazione e ho sempre avuto un po' questo... scusa Andrea, visto che l'hai nominato ti leggo il commento di Chico Gussoni che ha scritto quello che sto ascoltando è tutto di qualità timing, bending, tecnica e interpretazione sono felice di vedere tanto talento in chitarristi così giovani grazie di gente da paura questi stanno in chat a vedere la tua diretta e scrivono e infatti è un onore pazzesco per me infatti è difficile anche riuscire a trovare le parole giuste e insomma ho sempre avuto un po' questo desiderio fatto sta che finito il liceo proprio alla fine un mio amico Manuel Boschetti che ho citato prima per la produzione mi consiglia questa audizione per una trasmissione televisiva io vado, partecipo e solo il giorno dell'audizione scopro che si trattava dell'audizione per Sanremo Young che è una trasmissione che abbiamo fatto negli ultimi due anni proprio al teatro Ariston su Rai 1 quindi abbiamo fatto sei prime serate cinque, sei prime serate in diretta su Rai 1 all'Ariston e quindi arrivare poi in quella situazione lì è stato per me una vittoria personale insomma è stata veramente una grande emozione e lì ho conosciuto i musicisti con cui suono oggi e con cui sono felice di poter suonare e insomma questo ha dato avvio poi alla mia attività nelle trasmissioni televisive fortunatamente e insomma io sto continuando il mio percorso cercando di imparare sempre di più e grazie ancora una volta a voi perché questa sera sto imparando tantissimo bene sono contentissimo ragazzi non vedo l'ora che arrivano poi i due i due nostri ospiti che vi potranno anche ripunzecchiare su altre cose però guarda sono felicissimo guarda ho letto un messaggio che secondo me rappresenta esattamente lo spirito di stasera di Marco che dice è incredibile questa commistione di big e giovani tutti connessi dà un senso di appartenenza grazie da tanto tempo che non ero così fiero di far parte di qualcosa grazie mille perché commento ve lo incornicio guarda bellissimo mi permetto di intervenire a riguardo perché dietro a quel nickname ci sta Marco Vassallo che tu Thomas conoscerai perché tramite il contest di Ciro quello che abbiamo fatto che avete fatto questa primavera era quel ragazzo che ha suonato tastiere e chitarra insieme Marco è un altro ragazzo giovanissimo che è un talento io ho avuto la fortuna di condividerci tanti palchi ed è una cosa straordinaria quindi speriamo di vederlo anche lui qui prossimamente perché merita ci tenevo a dirlo perché è un mio amico tu hai citato il commento ragazzi intanto adesso visto che è il turno di Alberto a suonare abbiamo appena superato i mille utenti simultanei che stanno portando la diretta tra youtube facebook twitch tutti i vari canali veramente mai successa sta cosa prima volta neanche Andy Timmons veramente incredibile bene Alberto sei paddato o non paddato no ero a posto ti senti ok prima che chiacchiari però suoniamo che ci suoni allora suono un pezzo dal mio album solista di debut che si chiama matter of priority e il pezzo si chiama Yukimura vai allora adesso ripaddati il microfono e poi sentiamo un po' di sano metallo io me lo scorderò proprio se non te lo dico non c'è problema tanto nessuno si arrabbia no c'è problema Grazie a tutti 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 E quindi Grazie a tutti 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 Noi Grazie a tutti 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 Io vi dire Grazie a tutti 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 Mamma mia Grazie a tutti 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 suonato Grazie a tutti 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 in mono Bene Grazie a tutti 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 So, quindi Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 E poi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti 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 E adesso Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti